Siamo qui in Fiera Almade, abbiamo il nostro focus sulle finestre per tetto piano, dove presentiamo le varie evoluzioni che questo prodotto ha avuto, per cui dalla finestra tradizionale con vetro con planare, alle finestre ad apertura ampia per uscita a tetto, alle finestre calpestabili e alla finestra evacuazione fumi. Oltre a questo le finestre tradizionali nelle varie versioni elettriche con comandi con differenti sistemi bluetooth piuttosto che app per essere comandate e novità assoluta per quanto riguarda l'Italia, un prodotto che è già stato presentato in alcune fiere internazionali estere, sono le finestre verticali che sarà una nuova sfida di Facro nel mondo.